Diritti, questa non è una manifestazione a difesa della laicità, qui c'è da andare all'attacco, qui c'è da chiedere laicità, perché la laicità in questo paese è un optional, è un paese a laicità limitata ed è per questo che oggi scendiamo in piazza. Io faccio parte di un comitato organizzatore che tiene dentro gruppi, associazioni, movimenti, siamo tantissimi che oggi abbiamo deciso di venire qui a dire che le nostre vite meritano di più, meritano di più i nostri amori, merita di più il nostro diritto a morire come vogliamo, merita di più vivere in un paese dove la scuola pubblica è sovvenzionata e non le scuole private, quelle che tengono i ragazzi emarginati perché forse sono gay. E parleremo anche della legge 194, una legge che c'è ma non è applicata, parleremo anche di fecondazione assistita, una legge che è stata massacrata grazie al cielo dalla magistratura perché era una legge orribile e oggi c'è fondamentalmente un vuoto legislativo. Quindi oggi parleremo di tante cose, soprattutto parleremo delle nostre vite, su questo palco si alterneranno, lo vedrete, tante persone che racconteranno pezzi di vite. Oggi mi corre prima di cominciare, ovviamente non sono io il presentatore, di ringraziare questa manifestazione possibile anche grazie al fatto che più di 200 persone hanno raccolto fondi e hanno mandato soldi a perché questa manifestazione si potesse fare. Quindi noi dobbiamo un grazie a chi ci ha permesso questa manifestazione. Un'ultima cosa vi devo dire che è molto importante. Oggi è il 3 ottobre. Noi da subito, quando abbiamo deciso di venire in piazza il 3 ottobre, sapevamo che era una data particolare, perché due anni fa, a largo di Lampedusa, sono morte più di 360 persone affogate nel Mar Mediterraneo. Erano persone che cercavano, evidentemente anche loro, una loro libertà dalla povertà, dalla schiavitù, dalle guerre. Secondo noi i diritti civili e i diritti umani camminano insieme ed è per questo che abbiamo deciso di iniziare con un minuto di silenzio in memoria di tutti i migranti che non sono riusciti a ottenere la libertà che sognavano. Grazie. Grazie. E rimarrendo su questo tema, faccio salire sul palco Edda Pando, che fa parte dell'associazione Milano Senza Frontiere, che è fra i gruppi che hanno aderito alla nostra manifestazione, perché evidentemente anche loro pensano che diritti umani e diritti civili debbano camminare insieme. Edda. Le vittime del naufragio del 3 ottobre del 2013 purtroppo non sono state né le prime né le ultime. Sono parte di una lunga e orribile lista. Le cifre ufficiali fino al 2014 parlano di 24.000 morti nel Mediterraneo, ma migliaia sono anche i dispersi. Le famiglie di questi migranti dispersi si stanno organizzando nel lato sud del Mediterraneo per chiedere verità e giustizia. Nella nostra città, a Milano, la rete Milano Senza Frontiere sostiene la lotta di questi parenti. Le foto sono le foto di queste persone. Per quello, tutti i giovedì, dalle ore 18.30 alle 19.30, fino al 18 dicembre, giornata mondiale per i diritti di migranti, ci troviamo in piazza della Scala per la marcia dei nuovi desaparecidos, dei migranti morti e dispersi. Con in mano le foto di questi migranti, consegnateci dai loro parenti, vogliamo ribadire che stiamo parlando di persone e non di numeri. Vi invitiamo tutti a partecipare il giovedì alla marcia dei nuovi desaparecidos, una marcia che ricorda quella che fanno ancora in Argentina le Madres e Plaza de Mayo. E ricordatevi di una cosa, noi non siamo dei disperati, loro non erano dei disperati, perché migrare richiede molto coraggio. Migrare richiede un coraggio per la vita e per la libertà, come sta dicendo la vostra manifestazione. Grazie. Allora, grazie a Edda. Adesso do la parola a persone più serie di me, a chi presenterà questa giornata che sarà lunga, come vi ho detto avremo veramente tanti ospiti, tante storie da raccontarvi. Massimo Ciri. Do il microfono Massimo e aggiungo un'ultima cosa. È sempre orribile quando succede, ancora di più quando succede a 16 anni. Questa manifestazione la dedichiamo ad Aleandro. Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Grazie.